Il 31 di dicembre, capodanno, facciamo uno spettacolo. Io e Rocco Papaleo, a Garibaldi, a Prato, in via Garibaldi proprio, nella mia città. È uno spettacolo particolare perché ci confesseremo, diremo delle cose che non abbiamo mai detto, proprio una confessione in piena regola, anche un po' audace. Ci saranno degli ospiti molto importanti, quindi venite pratesi, perché è importante che io mi senta a casa, almeno a Capodanno. E soprattutto il nostro pubblico deve essere quello degli incazzati di Capodanno, quelli che non vogliono andare per forza a quelle feste con le mutande rosse, con le cose dei jarrettiere rosse. No, da noi non c'è mutande rosse, da noi ci devono venire quelli incazzati di Capodanno.